Colonello Vargas. E' a posizione Laswell. Non mi aspettavo queste formalità. Allora la faccenda è seria. Loe, mi serve il tuo aiuto, Alejandro. Parla. Il cartello Lasalmas vuole portare un terrorista iraniano oltre il confine. Laswell, i terroristi non passano dal confine sud. Lo sappiamo e lo sanno anche loro. Ecco perché ci proveranno. Devi assolutamente impedirlo. Chi è il bersaglio? Il maggiore Hassan Zayan. Capito. Quando? Stanotte. Sono collegata a un drone di sorveglianza. Apparecchio movimento. Migrante suoi in acqua. La polizia di frontiere interverrà. In arco scusano i migranti come esse. Potrebbero muovere a stand ora. Ricevuto. Dov'è l'FBI? Arriverà tra un'ora. Abbiamo solo voi. Un attimo. Rodolfo, i migranti sono un'esca. Il bersaglio è in movimento. Hanno attraversato il fiume con una barca. Su, cerchiamola. D'accordo. Ci pensiamo noi, Watcher. Alejandro, non deve barcare il confine. Ricevuto. Chiudo. Se attraversa il confine, non avremo giurisdizione. Allora dobbiamo impedirglielo. Ehi, colonel. Laggiù, verso nord. Loro barca. Ferma qui. Asan si muove rapidamente. Possiamo beccarli prima che attraversino. Ricevuto. Il muro è più avanti. Sta pronto. Il cartello Lasal Mas e l'Iran. Questa è una novità. Se Hassan attraversa... Cambio di tattica. Ascolta. Conto quattro nemici. Spegni la torcia. Visuale su Hassan. In cima al muro. Merda. Ha attraversato. Non possiamo perderlo. Dobbiamo ingaggiare. Libero. Libero. Watcher, il bersaglio ha sconfinato. Si muove. Lo inseguiamo. Colonnello, ve lo sconsiglio. Non avete autorità né risorse nell'area. Lo so. Tu avverti l'FBI e contatta la polizia locale. Chiudo. Rodolfo, usa la scala. Muoviti. Riesci a vederlo? Negativo. È fuggito. E noi lo seguiremo. Forza. Il cartello lo porterai in un nascondiglio in città. Dobbiamo trovarlo. Ricevuto. Qui Hassan ha molti più amici di noi. Putenza. Questa è la proprietà privata. Cazzo. Io te mate, gringo. E tu se retrocede. San Paolo. Forza. Ho sentito qualcuno. Do un'occhiata. Di qua. Ehi. Che cazzo pensate di fare? Forza di farire, state dentro. È la mia proprietà, coglione. Il campo è libero. Forza. Che sta succedendo? Casa all'angolo. Uno ha scavalcato il muro. Contatto. Apri. E copro. La porta, dai. Sono abitazioni civili. E qui non abbiamo autorità. Forze speciali. Forze speciali. Camera libera. Avanza. Ne volete anche voi? No, 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 no. Sono abitazioni civili. E qui non abbiamo autorità. Forze speciali. Forze speciali. Ne volete anche voi? Metti giù l'arma. Fa il culo. Stai indietro. Indietro. Non sparare. Passati di qua. Dove? Non ho il culo. Andiamo. Hassan non è qui. Sbreghiamoci. Siamo all'angolo di Flores e baracca. Passaglio diretto a un'altra persona. Ricevuto. Sta arrivando la polizia locale. Uyghat! Sta pure già! Uyghat! Lo svegli! Tu gliela è cartella! No! Via libero! Libero. Guarda, è andato di qua. Tutto bene? Niente di che. Lei? Bene. Di qua. Seguimi. Ora Hassan è da solo. Non per molto. Forze speciali, a terra! Cosa cazzo? Fuori da casa mia! Non voglio farle del male. Cerco una persona. Cazzo, tienili d'occhio! L'uomo che è passato di qua. Dov'è? Ehi, fermo! Ah, cazzo. Watcher, emergenza! Civili a terra. Ricevuto. Qual è il nascondiglio? Inizia dalla casa blu a due piazze. Perché? Un'ultima di sicurezza si è appena a sé. Quella aveva ragione. Facciamo come dico. Teriremo tutti. Hop! 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 Buttate quelle armi a terra, subito! Fa esattamente come ti dico, e chi ammazza! Facciamo come dicono! Capito? Caliremo tutto! vieni avanti con le mani bene in vista sopra la testa non costringermi a spararti colonnello alejandro vargas forze speciali cerchiamo un terrorista gomez fermati sono le forze speciali mica facile distinguervi dal cartello il sospettato non 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 Io blocco le uscite. Vai dentro, io controllo fuori. Stoi. Siervo, policia! Non dispare, non dispare! Coprimi le spalle. Non, non. Non, non, non. Non, non. Non, non, non. Bruciate tutto. Lo sai chi sono io? Sei un terrorista, Pedeu. Un soldato. E sono qui per combattere. No. Deve bruciare. Come Gorbrani. Vedo dal fumo. Che succede? Rodolfo! Stai entrando! No, colonnello. Per me è finita. Dove sei, fratello? Ascolti, Hassan è fuggito. Lo stanno trasferendo. Chiudi! Qualcosa attraversa l'Atlantico. C'è una nave. Trasporta qualcosa. Veniti, fratello! Sono qui! Assane è tornato sotto la custodia.